buonasera grazie benvenuti e benvenuti a famiglie d'italia sulla 7 grazie e conduce il gioco il grande Flavio no 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 non la secondate buonasera è l'adjuster poi vi spiegherò in inglese l'adjustatore poi ve lo presenterò non dica grande Flavio sembra un mago del 1800 col Flavio come va Flavietto va benissimo si ricorda che cosa come si fa come si conduce come no l'accendiamo vuole l'aiuto da casa chiamiamo subito Mentana eh sì sì è vero no non sforiamo c'è il TG subito dopo di noi il TG vogliamo presentare le famiglie vogliamo iniziare ecco questo non me lo sarei ricordato però aspetti una cosa invece non potrei non ricordarla ringraziare le amiche e gli amici che ho lasciato di là questi che ho trovato di qua e buon lavoro a tutti noi il grande cuore di Flavietto il grande cuore e poi posso dire il presidente Cairo e un signore che è anche mio amico il direttore Andrea Salerno altrimenti non sarei qua e adesso possiamo cominciare grazie a tutti